Loro sono Francesca, Paolo e il loro cane Giulio. Siamo in un garage nella zona 167 di Lecce. Non vi diciamo il nome della via perché non vorremmo qualcuno li cacciasse. Loro non danno fastidio a nessuno. Semplicemente quest'auto, una Fiat 500, è diventata la loro casa. È successo a luglio scorso. Prima abitavano a San Cesario in una casa in affitto. Poi lei ha perso il posto nell'impresa di pulizia per la quale lavorava. Lui non lavora da un po' esattamente da quando ha avuto due infarti. Prima era autista di pullman e camion. Dunque, all'improvviso, è stato impossibile pagare con i soli 600 euro di pensione di Paolo un affitto da 350 euro. E sono finiti in mezzo alla strada. Hanno una figlia che però vive con i nonni e chiedono un tetto sulla testa. A San Cesario hanno presentato regolare domanda per ottenere un alloggio popolare e sono in testa alla graduatoria provvisoria dove dicono di occupare il terzo posto. Ma dopo sette mesi nulla è cambiato. L'aspetto più grave di questa vita on the road è che Paolo ha bisogno del respiratore e allora la notte non dorme per poi la mattina andare a casa di parenti e poter finalmente trovare pace tre o quattro ore collegando il respiratore alla rete elettrica. Per fortuna gli inquilini di un palazzo popolare sono stati gentili e hanno dato loro le chiavi del garage per poter dormire almeno un po' più al sicuro qui nel seminterrato tra i box auto. Perché noi purtroppo abbiamo ricevuto uno sfratto esecutivo e per problemi di salute e perdita di lavoro non siamo riusciti più a pagare 350 euro d'affetto. Abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni, al sindaco di San Cesario, ai servizi sociali di San Cesario però ci hanno promesso, ci hanno promesso e non abbiamo trovato nessuna soluzione a tutt'oggi. Io chiedo gentilmente alle istituzioni di potermi dare una mano per avere un alloggio, un piccolo alloggio dove poter stare con la mia famiglia, mia figlia, mio marito. Anche trovare lavoro sarebbe una cosa utile, cioè essenziale, avere un reddito. Non chiediamo una reggia, chiediamo un appartamentino dove si può stare io, la bambina e lei insieme. E quindi anche se è un appartamento un po' malconcio, io i piccoli lavoretti li potrei fare essendo che non posso fare tutto perché sono infartuato e quindi quel poco che riesco a fare lo faccio, non è un problema.